Rapina in un'agenzia di viaggi, 5 arresti a San Cataldo per un episodio risalente al 19 agosto scorso. Incidente sulla statale 640, 4 auto coinvolte, intervento di carabinieri e soccorsi. Caltanissetta, controlli della polizia in periferia, sequestrato un coltello, scatta una denuncia. Scambio culturale, Romania-Sicilia, due giorni di festival a Caltanissetta. Nissa, dura contestazione dei tifosi dopo la partita con la Mazzarese, parla il presidente Sergio Iacona. Volley, serie B2 femminile, Albaverde-Caltanissetta-Capolista dopo la seconda vittoria consecutiva. Bentrovati, Rapina in un'agenzia di viaggi, 5 arresti a San Cataldo per un episodio risalente al 19 agosto scorso. Cinque sancataldesi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di avere rapinato un'agenzia di viaggi di San Cataldo il 19 agosto scorso. Per un indagato è stato disposto il carcere, mentre altri quattro sono finiti agli arresti domiciliari. Alla base di tutto ci sarebbe una presunta condotta inadempiente da parte dell'agenzia. I cinque arrestati si erano infatti presentati all'interno dell'esercizio commerciale per chiedere la restituzione della somma pagata per una crociera, ma quando si sono sentiti rispondere da una delle titolari che non c'erano con tanti in cassa la situazione è degenerata. Secondo il racconto dei titolari e di una dipendente i cinque non avevano risparmiato minacce al loro indirizzo e avevano portato via un ventilatore, un frigorifero, una televisione, un computer fisso con il relativo case, una stampante, tre orologi Ikea e persino una decina di modellini di navi da crociera. Il tutto per un valore di circa 3.000 euro, merce che i rapinatori avevano detto di volere restituire solo se fosse stato loro rimborsato il denaro della crociera. Titolari e dipendenti avevano anche provato a chiamare il 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, ma vennero minacciate pesantemente. Nei prossimi giorni cinque indagati verranno interrogati dal giudice a difendere gli avvocati Gianluca Amico e Sergio Messina. Incidente sulla strada statale 640 in direzione Caltanissetta, quattro auto coinvolte, immediato l'intervento di carabinieri e soccorsi. Incidente stradale sulla 640 in direzione di Caltanissetta, 15 minuti dopo la mezzanotte, è stato un'automobilista a chiedere l'intervento alle forze dell'ordine e soccorsi per un incidente che ha coinvolto quattro auto sulla strada statale 640 in prossimità della galleria Roverello in direzione Caltanissetta. Sono state tre le pattuglie dei carabinieri intervenute e anche un'ambulanza del 118, vigili del fuoco, personale ANAS e soccorso stradale. Ad essere coinvolti nell'incidente sono stati una 43 anni di San Cataldo alla guida di una Golf, una Lancia Ypsilon guidata da una ragazza di Caltanissetta di 19 anni, una BMW condotta da un ventenne nisseno e un'Alfa Romeo Giulietta guidata da un ventisettenne di Enna che è stato poi trasportato in ospedale con codice verde e successivamente dimesso. A Caltanissetta controlli della polizia in periferia ha sequestrato un coltello a Serramanico. Una denuncia. Scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Caltanissetta per porto di armi ed oggetti atti ad offendere nei confronti di un uomo. Tutto ha avuto inizio nella notte. Erano due gli uomini sospetti a bordo di un'auto che si aggiravano tra i condomini dei quartieri periferici della città. A fermarli durante i servizi di controllo del territorio sono stati i poliziotti della sezione volanti. I due uomini già gravati da pregiudizi di polizia sono stati identificati e sottoposti a perquisizione personale del mezzo e così gli agenti della polizia di Stato hanno trovato al conducente un coltello a Serramanico nascosto sotto il sedile dell'auto ed è scattata la denuncia. La polizia stradale soccorre il conducente di un auto articolato sulla strada statale 626 Caltanissetta a Gela. Una pattuglia della polizia stradale di Caltanissetta in servizio sulla statale 626 che collega il capologo Nisseno a Gela ha soccorso il conducente di un auto articolato in difficoltà. Gli agenti, mentre percorrevano l'arteria stradale, hanno notato qualche anomalia. Come raccontato alla stessa polizia, infatti, l'uomo poco prima si era fermato per un'avaria del mezzo e nel tentativo di controllare il motore era stato investito dal liquido refrigerante dell'auto articolato, ancora ad alta temperatura, subendo quindi delussioni. L'autista, nonostante le ferite, si era però rimesso in viaggio. Gli agenti a quel punto hanno fatto intervenire sul posto ai sanitari del 118, che hanno medicato il conducente, il quale, superata la paura iniziale, ha potuto continuare il suo percorso verso casa. È stato interrogato il cappellano del carcere di Enna, arrestato mercoledì scorso. Continuano le indagini per fare luce sull'arresto di padre Rosario Buccheri, finito in carcere lo scorso mercoledì, accusato di aver consegnato un panetto di hashish ad un detenuto del carcere di Enna. Dalle indagini portate avanti dagli inquirenti, trappellerebbero particolari inquietanti. È questo l'aggettivo utilizzato dallo stesso G.P. Giuseppe Noto nell'ordinanza di convalida, secondo cui emergerebbero profili inquietanti sul suo possibile inserimento in un contesto di criminalità, anche di tipo organizzato, di elevato spessore delinquenziale. Nella fattispecie, nei documenti sequestrati a Don Buccheri, ci sarebbero anche dei pizzini fittamente scritti, sparsi in tutta la sua stanza del convento di San Francesco. Inoltre, gli agenti del nucleo investigativo della polizia penitenziaria, in seguito alla perquisizione domiciliare, avrebbero trovato un'ingente somma di denaro, una pistola calibro .38, due sciabole, un fucile a cannemozze, numerosissime munizioni e vari foglietti di carta. Il carcere di Enna oggi ospita appartenente al clan Santa Paola di Catania, declassati a detenuti comuni, che potrebbero fare la differenza nella vicenda. A questo le indagini ancora in corso dovranno dare risposta. Infine, padre Rosario Buccheri, nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto sabato davanti al GIP Giuseppe Noto, alla presenza del PM Michele Benintende e del legale del parroco Nino Grippaldi del Foro di Catania, si sarebbe difeso dichiarando di essere stato minacciato e definendo in eredità la somma di denaro che sarebbe stata ritrovata nel suo domicilio. In ansia per il padre che non rientra, trentenne diversamente abile chiama il 112, rassicurante l'intervento dei carabinieri. È a Gela che una storia alleato fine ha ancora una volta confermato lo spirito di abnegazione e attaccamento al dovere, eranzia di tutela per il cittadino dei carabinieri. È la storia di un padre di un figlio di 32 anni diversamente abile, che dal padre 71enne riceve ogni cura, e che non avendolo visto rientrare come sempre alle 18 dopo la consueta uscita pomeridiana, ha contattato le forze dell'ordine, chiamando il numero di emergenza unico europeo 112. Sono stati i carabinieri ad intervenire a verificare che all'anziano non fosse accaduto nulla. Contattato l'uomo che stava rientrando per portare la cena al figlio, ha raccontato dei problemi di salute del giovane, che soffre anche di crisi depressive. Così proprio uno dei carabinieri intervenuti ha ricontattato il ragazzo, rassicurandolo. Padre e figlio hanno poi ringraziato gli uomini dell'arma per l'interesse e la sensibilità dimostrate in un momento di difficoltà. Vallone, dopo il maltempo, il punto della situazione sulle strade che collegano diversi centri della zona del Nisseno. Tornano i problemi legati alla viabilità nel vallone. Con le prime piogge scroscianti delle scorse ore, tanti sono i disagi provocati ai pendolari. Due le strade maggiormente martoriate dalla prima ondata di maltempo di venerdì scorso. La strada che collega Vallelunga e Villalba con Mussomeli è la ISP38, che collega quest'ultima con Galtanissetta. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato parecchio fango sulle carreggiate ed addirittura c'è stata un'iniziativa lodevole di un condadino della zona, che ha spalato fango di sua spontanea volontà per permettere la circolazione delle macchine. La situazione al momento sembra essere tornata alla normalità, dato il graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma si invita comunque a tenere alta la guardia, poiché qualche detrito potrebbe essere rimasto nella carreggiata. Covid 331 positivi in sette giorni nell'intera provincia. 118 a Caltanissetta, 108 a Gela, 28 a San Cataldo, 18 a Mussomeli. Negli ultimi sette giorni sono stati riscontrati 331 casi di positività al coronavirus nella provincia di Caltanissetta, pazienti tutti posti in isolamento domiciliare. 118 sono i casi nella città di Caltanissetta, 108 a Gela, 28 a San Cataldo, 18 a Mussomeli, 13 a Niscemi, 11 a Santa Caterina a Villarmosa, 6 a Vallelunga a Pratameno, 5 a Butera, a Mazzarino e a Serra di Falco, 3 a Milena e Montedoro, 2 a Bonpensiere e a Sommatino, 1 ad Acquaviva a Platani, a Campofranco, a Riesi e a Sutera. I ricoverati in degenza ordinaria sono in totale 10, di cui 3 a Gela, 2 a Niscemi a San Cataldo, 1 a Serra di Falco, a Santa Caterina a Villarmosa e a Caltanissetta. Dimessi dalla degenza ordinaria invece 5 pazienti, di cui 3 a Caltanissetta, 1 a Gela e 1 proveniente da fuori provincia, mentre si segnale il decesso di un paziente di Caltanissetta. I guariti infine sono in totale 229, fra questi 87 pazienti nella sola città di Caltanissetta, 54 a Gela e 27 a San Cataldo. Scambio culturale Romania-Sicilia, 2 giorni di festival a Caltanissetta. Si è concluso ieri il festival Scambio culturale tra Sicilia e Romania, dove per due giorni Corso Umberto si è tinto con i colori della bandiera rumena, dove si sono esibiti cantanti rumeni e italiani, con l'esposizione dei costumi tradizionali e assaggi di piatti. Un momento gioioso e di festa per tutta la comunità rumena presente a Caltanissetta, dove hanno portato con tanto onore i loro usi e costumi della terra natia. Evento patrocinato dal comune di Caltanissetta, la Proloco, l'ASIR, Associazione Sociale e Culturale Migranti Rumeni e il Consolato Rumeno. Presenti alla manifestazione anche i maestri nisseni Lillo De Fraia e Ottavio Miraglia, dove hanno presentato i loro libri Il dono di un talento e le mie ricette del territorio nisseno. Io ho fatto questo libro perché giustamente rispecchia la nostra città e ho dedicato tutte queste ricette. Tra l'altro io sono 65 anni che faccio questa attività e mi sono preoccupato perché Caltanissetta non aveva nessun testo gastronomico e ho dovuto creare questo libro che rispecchia il nostro territorio parlando esclusivamente anche delle erbe spontanee che noi abbiamo qua, ricordo i figli amari una volta e quindi questo libro rispecchia le tradizioni. Naturalmente con le tradizioni c'è anche l'innovazione e un luogo deve anche sapere valutare le pietanze di una volta trasformandolo anche con le nuove tendenze che ci sono ora. Questo evento è organizzato con il sostegno del governo rumeno e con il patrocinio del comune di Caltanissetta che vorrei ringraziare al comune di Caltanissetta per questa accoglienza alla comunità rumena qui a Caltanissetta e per questa collaborazione che abbiamo iniziato quattro anni fa ma per la pandemia non abbiamo organizzato la seconda edizione e adesso subito dopo la pandemia abbiamo organizzato la seconda edizione del Festival Scambio Culturale a Caltanissetta. Sono un cantante culturistico rumeno, mi trovo qui a Caltanissetta perché è stato organizzato un festival, un cambio di cultura rumenia e sicilia, un posto meraviglioso, la gente molto calorosa, speriamo che sarà così bello fino alla fine. Ucristu trovato dopo la presentazione a Palermo, proiezione del film anche a Caltanissetta. Un lungo applauso accompagnato le immagini finali dell'ultima fatica cinematografica di Antoni Gangitano Cristo trovato dopo la presentazione a Palermo nella sede della fondazione Federico II che ha sostenuto il progetto è stato proiettato a Caltanissetta, città che è anche protagonista attraverso il racconto della storia e della devozione nei confronti del crocifisso ligno portato in processione il venerdì santo e del suo ritrovamento. L'evento ha richiamato numerosi cittadini tanto da riempire il teatro e dover replicare per dare l'opportunità anche a chi era rimasto fuori di vedere il lavoro finito, di rivedere scorci del quartiere arabo, della Fontana del Tritone, luoghi dove quest'estate sono state girate le scene e di rivivere anche i momenti della settimana santa spiegata coinvolgendo gli stessi protagonisti degli appuntamenti della Pasqua Nissena. 650 posti si sono riempiti, colmati, hanno colmato oltre che i posti il mio cuore. Ringrazio veramente Caltanissetta per questo meraviglioso momento delicato, sono adrenalinico, sono emozionato e li ringrazio veramente perché quello che io volevo era questo. Ti senti appagato quando la città corrisponde a quello che tu hai fatto con Amone. Sono stati bravi tutti del teatro Ateppa, compreso il testo che ha scritto Salvatore Riggi, ma la real maestranza tutta ha partecipato Gianni Taibbi con i suoi, ma i figli amari sono stati la parte integrante che mi hanno raccontato alcune cose e io che poi sono andato alla ricerca di cose reali è vero perché anche il nome del Papa di quel periodo è vero, il nome del parroco di quel periodo è vero. Insomma non c'era niente di fantasia, l'unica cosa di fantasia che ho voluto creare è stato l'uomo italo-americano. Il crocivisto utilizzato nelle scene è una fedele riproduzione di quello custodito all'interno del santuario del Signore della città. Le misure le ho prese uguali al Signore della città, non potendo prendere quello che in realtà è all'interno della chiesa, ho chiamato uno scultore, Igor Castellano, e mi ha riprodotto perfettamente il Signore della città, il Signore Cristo Nero è chiamato o Cristo trovato nel mio lavoro e lo ha fatto in maniera delicatissima. Ma non solo, questo Cristo Nero, la Fondazione Federico II di Palermo, il nome della dottoressa Monterosso, lo ha già regalato al Museo delle Vare di Caltanissetta, quindi da marzo sarà qui a Caltanissetta. Grande la soddisfazione anche per il cast presente in sala. È emozionantissimo, io non mi aspettavo tutta questa gente, però da Nisseno amo quello che ho fatto e amerò sempre dei lavori che verranno futuri, quindi è un omaggio alla città di Caltanissetta e sono felice di aver partecipato, grazie mille. Io sono contentissimo perché da nonno Nisseno ho dovuto tenere un po' alto quello che era il valore di questo personaggio e di questo prodotto, quindi spero che Caltanissetta abbia apprezzato questa mia prova in questo senso, però io mi sento veramente carico di una cultura diversa adesso perché appunto conoscere questa storia mi ha permesso di avvicinarmi ancora di più a questa città che probabilmente conoscevo poco e credo che come questa storia in Sicilia ce ne sarebbero da raccontare tantissime. In questa esperienza bellissima, meravigliosa, lo dico come Presidente dell'Associazione della Tepe, come attore che ha partecipato alle riprese dove l'Associazione della Tepe ha dato un contributo importante, è un progetto veramente interessante, condivido, l'abbiamo sposato con grandissima emozione ed è un progetto che permette non solo di riscoprire e valorizzare degli aspetti culturali storici della città di Caltanissetta ma effettivamente ci fa anche sentire tutti più orgogliosi di essere nel seno riscoprendo le nostre radici, la nostra cultura. Stadio Marco Tomaselli, la Nista Rugby avvia una raccolta di firme, hanno già aderito diverse squadre da tutta Italia. Per lo stadio Tomaselli la squadra di LF e Nista Rugby spera possa essere trovata presto una soluzione che consente in tempi brevi a tutte le discipline sportive di utilizzare lo stadio polivalente. L'attuale situazione, evidenzia la squadra di Rugby in una nota diffusa, potrebbe comportare per la stessa l'esclusione del campionato. La vicenda alla base della dichiarazione riguarderebbe principalmente i lavori fermi che secondo la nota dipenderebbero da una scelta dell'amministrazione che in merito replica. Sì, ci sono pareri e regolamenti sull'omologazione dell'impianto sportivo emessi dalla Lega Nazionale di Lettanti di Calcio e dalla Federazione Rebbi che sono stati emessi successivamente alla data del bando. Appunto per questo il capitolato per la realizzazione dell'impianto deve tenere anche conto di ciò. Queste valutazioni attualmente sono al vaglio dell'ente che ha emesso, che ha dato il finanziamento per la realizzazione dell'opera e aspettiamo il loro esito. Dopodiché possiamo emettergli il certificato di ultimazione dei lavori. Anche sulla questione di un cambiamento sul capitolato d'appalto su cui proprio la Nisteregui ha lanciato una raccolta firme per cui hanno aderito molte squadre da tutta Italia, arriva la risposta. Se modifiche ci sono state, queste sono state fatte nel pieno rispetto di quelli che sono i regolamenti federali che omologano i campi di calcio e di rugby. Teniamo conto che alcuni di loro sono stati emessi successivamente alla redazione del capitolato. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che nel pieno rispetto di questi regolamenti per l'omologazione, sono regolamenti che vengono emessi dalle rispettive federazioni e poi approvate i dalconi. Quindi il nostro obiettivo è quello di rispettare in pieno i regolamenti per fare in modo che le squadre di calcio e di rugby della nostra città possano utilizzare tutte e due nel pieno delle loro possibilità e l'impianto. Calcio sconfitte San Cataldese e Nissa. I Verdi Amaranto perdono in Calabria, i biancoscudati battuti al Palmintelli. La San Cataldese scivola all'ultimo posto della classifica del Gironei di Serie D dopo la sconfitta subita domenica a Castrovillari. La quinta battuta d'arresto in sei giornate, un ruolino di marcia disastroso che preoccupa non poco la tifoseria Verdi Amaranto. Nell'ultima trasferta a Calabria basta un gol alla squadra locale per chiudere la partita. Affirmare la rete decisiva del match è trovato al quarto d'ora della ripresa. I risultati della sesta giornata Canicattì-Trapani 2-2 Castrovillari-San Cataldese 1-0 Acireale-Realla-Versa 0-0 Sant'Agata-San Luca 4-1 Cittanova-Ragusa 1-4 La Mezzia-Santa Maria 0-1 Locri-Vibonese 1-5 Paternò-Licata 0-1 Mariglianese-Catania 1-2 La classifica Catania 18 punti La Mezzia 15 Vibonese 13 Ragusa 12 Real-Aversa 11 Sant'Agata e Locri 9 Acireale 8 Santa Maria Trapani-Canicattì e Castrovillari 7 Licata 5 Paternò e Cittanova 4 Mariglianese-San Luca e San Cataldese 3 In eccellenza un'altra sconfitta per la Nissa La seconda di fila alla quarta dall'inizio del campionato Stavolta al Palmintelli passa la Mazzarese con il minimo scarto Ospiti in gol al 28esimo del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Benivegna sorprende l'intero reparto arretrato biancoscudato E di testa manda la sfera alle spalle del portiere nisseno Sull'1-0 la Nissa costruisce poco Mentre la Mazzarese si limita ad amministrare l'esiguo vantaggio Al triplice fischio finale ancora delusione profonda tra i tifosi della Nissa Per l'ennesimo passo falso della squadra del cuore Amareggiato il tecnico Davide Boncore Il suo commento a fine partita anche sulla pagina Facebook biancoscudata Il più grande dispiacere che posso avere è non regalarci una gioia a questo pubblico di oggi Il più grande dispiacere, il più grande rammarico che me ne sto andando a casa Con il più grande rammarico che però ne ho parlato con la società Che sto facendo di tutto per rispecchiare il mio carattere Il mio carattere è quello che di vincere tutti i duelli Ascessare non critico il passaggio sbagliato Vincere i duelli, vincere l'uno a uno, l'uno contro uno Vincere Che questo a oggi ancora non lo vedo Quindi mi assumo le mie responsabilità Perché quando non c'è questo Per un allenatore è un fallimento Però prima di arrivare al fallimento mio Personale di lavoro L'unica cosa che dico al pubblico, alle persone che giustamente i tifosi si fanno chilometri Vengono a fare e dire È che farò di tutto Farò di tutto Per cercare di riuscirci a farlo Come ho fatto nei 12 anni precedenti di passato Sono convinto e forte che ci riuscirò Perché ho avuto un colloquio con la società E siamo nella stessa linea Siamo nella stessa linea Che mi sono assunto le mie responsabilità E solo col lavoro Oltre al lavoro Ci vuole la fame I risultati della sesta giornata Casteldaccia Profavara 0 a 1 Don Carlo Enna 1 a 1 Leonfortese Gela 1 a 0 Mazzara Castellammare 3 a 1 Nissa Mazzarese 0 a 1 Oratorio Marineo Parmonval 1 a 0 Resuttana Cuspalermo 2 a 0 Sciacca Acragas 0 a 4 La classifica Acragas 16 punti Enna 14 Don Carlo Mazzarese Profavara Sciacca 12 Mazzara 11 Casteldaccia 10 Cuspalermo Castellammare 6 Oratorio Marineo 5 Parmonval Nissa Leonfortese Resuttana 4 Gela 2 Dura contestazione dei tifosi nisseni al termine della partita Nissa Mazzarese Parla il presidente del club biancoscudato Sergio Iacona Al triplice fischio finale di Nissa Mazzarese che ha visto la vittoria della squadra ospite è partita la contestazione dei tifosi verso tutta la società e la squadra escludendo dalle colpe il nuovo tecnico Davide Boncore che ha appena iniziato il suo lavoro Faccia a faccia molto duro con alcuni giocatori e parole rivolte verso alcuni dirigenti colpevoli secondo i tifosi di un mercato blando abbiamo sentito il presidente Sergio Iacona La contestazione è pienamente comprensibile perché i tifosi vogliono vincere o comunque vogliono vedere una squadra che lotta fino all'ultimo secondo con la giusta motivazione è chiaro che più amareggiati ancora dei tifosi siamo noi perché noi abbiamo costruito una squadra che è stata messa nelle condizioni di lavorare con il massimo della serenità ai giocatori allo staff tecnico non è mai mancato nulla né nella fase del ritiro né nella fase successiva evidentemente oggi possiamo dire che sono stati compiuti degli errori nella fase della costruzione di questa squadra il nostro dovere è quello di non perdere la testa di fare un'analisi a 360 gradi e adottare poi le conseguenti decisioni sperando che i risultati vengano però mi sento di dire che questa è una squadra che era stata costruita per navigare dalla metà classifica in su e non per salvarsi Volley Serie B2 Femminile Alba Verde Caltanissetta Capolista dopo la seconda vittoria consecutiva Alba Verde Capolista in Serie B2 Femminile di Volley dopo due giornate di campionato le Nissene sono al primo posto della graduatoria del Girone I in condominio con Fidelis Torretta e Gioiosa Ionica a sei punti davanti a Crotone Cuscatania e altre squadre allestite per il successo finale dopo la vittoria sulla Region Reggio Calabria l'Alba Verde Caltanissetta ha superato a pieni voti anche la trasferta di Ragalna contro l'Alus con un perentorio 0 a 3 successione dei set 12 a 25 12 a 25 19 a 25 tra le migliori in campo Alessia Angiletta Nicole Ferrarini e Valeria la mattina i risultati della seconda giornata Zafferana Crotone 3 a 2 Ardens Comiso Gioiosa Ionica 0 a 3 Ericina Cuscatania 3 a 0 Planet Fidelis Torretta 1 a 3 Saracena Stefanese 3 a 0 Alus Alba Verde Caltanissetta 0 a 3 Volley Region Ballei 3 a 2 La classifica Alba Verde Caltanissetta Fidelis Torretta e Gioiosa Ionica a sei punti Zafferana e Crotone Saracena Ericina Cuscatania e Stefanese 3 Region Reggio Calabria e Valle 2 Planet Alus e Ardens Comiso 0 E tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia questa profonda area di bassa pressione rimane sull'Atlantico lontano dai nostri regioni quindi per il momento il tempo resterà bello solo con un po' di foschie e neppie di notte primo mattino in Val Padane nelle valentine del centro se controlliamo la nuvolosità infatti vediamo come sull'Italia non siano presenti annuvolamenti sostanziosi e con l'umidità che però si trasforma appunti in nuvole basse e foschie anche dense nelle prime ore del mattino come precipitazioni nulla a segnalare non ci sono nuvole come potrebbe piovere quindi insomma situazione davvero più che tranquilla e con clima anche particolarmente emite forse questo è l'argomento principale con le temperature che riescono a toccare anche i 25-26 gradi in diverse ocaità alle regioni tirreniche quelle dove le temperature raggiungeranno le punte più alte tra l'altro anche di notte a primo mattino non fa particolarmente freddo per il resto guardate tanto sole in tutta Italia ripeto inizio giornata un pochino più grigio in pianura padana nelle valli interne del centro per la presenza di nebbie foschie e un po' di nuvolosità bassa in Liguria sull'Alto Adriatico per sapere nel dettaglio fino a quando andremo avanti così consultate dell'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Croce Verde Viale della Regione Servizio notturno Buonasera Via Edmondo De Amicis Via Edmondo De Amici